Tutti i programmi di Agrilinea puoi vederli su www.agrilinea.tv Oggi abbiamo toccato diversi argomenti parlando della stalla ideale e devo dire che le abbiamo toccate tutti i punti chiave di questa stalla. Sì, è stato interessante anche per me, ho imparato un sacco di cose che conoscevo magari non così a fondo. Parla con lei di genetica, cosa consigliamo ai nostri allevatori che ci stanno ascoltando per la stalla ideale? Di selezionare per le caratteristiche che migliorano sicuramente la fertilità, la longevità delle vacche, la loro resistenza alle malattie. Dove sta andando la ricerca? La ricerca va appunto verso questo tipo di animali, specialmente negli ultimi dieci anni, dopo aver lavorato su aumenti produttivi per 40-50 anni. Cosa deve cambiare? Credo che dobbiamo continuare sulla strada che abbiamo intrapreso già, non dobbiamo fare dei cambiamenti enormi. Abbiamo spazio per migliorare di molto queste caratteristiche appunto di sanità e stiamo percorrendo questa strada con convinzione. Quindi una genetica che abbiamo rafforzato nel corso del tempo? Sì, sì, sì. La genetica in Italia è a un livello paragonabile con i migliori paesi del mondo. Siamo tra i leader mondiali in questo settore, specialmente nella fresona e nella bruna. Quindi la fresona e la bruna sono le due razze per eccellenza? Beh, sono le due razze insieme alla pezzata rossa più numerose. La fresona produce il 90% del latte in Italia. Anche con queste utilizziamo meno farmaci nella stalla? Beh, parlando all'interno della razza fresona si sono selezionate delle linee che determinano una resistenza maggiore alle malattie. Parliamo di impianti di mungitura. Abbiamo visto che la stalla ideale ha degli impianti straordinari, non solo nella struttura ma anche nella tecnica. Sì, beh, certamente sì. Come dire, impianti di mungitura, la stalla ideale, come ho detto prima precedentemente, non è... cioè non esiste una stalla ideale in assoluto ma esistono tante stalle ideali. Quindi i robot di mungitura, cioè gli impianti di mungitura possono essere di tipo tradizionale o di tipo robotizzato. Quello che conta è la tecnologia che c'è in questi, quindi la capacità, la possibilità di seguire il comportamento del singolo animale, di mungere l'animale per il proprio... come singolo e non... cioè gli animali non sono munti tutti nello stesso modo ma vengono munti in base alle loro esigenze caratteristiche. Ecco, queste tecnologie elettroniche di precisione che valore danno all'allevatore e al prodotto stesso? Sì, beh, fanno una grandissima differenza nel senso che oggi le tecnologie che utilizziamo sono sensori che mettiamo sugli animali ma sono del tutto dei pedometri con dei laccetti come se fossero dei braccialetti, un orologio. Danno tutta una stessa informazione all'allevatore che permettono quindi a questo di poter gestire i propri animali sulla base di queste informazioni, quindi un valore aggiunto molto importante. Conoscere tutto quello che è fuori dalla norma è importante per poter intervenire, prevenire, intervenire. Diciamo che per il benessere animali questi aiutano? Assolutamente fanno la differenza. Fa la differenza appunto sul fatto di poter intervenire e curare, controllare e modificare tutto quello che c'è da fare sull'animale. Io ho un'informazione sul singolo animale, vedo se l'animale, noi siamo in grado di misurare quanto tempo l'animale sta coricato, quanto tempo sta in piedi, per esempio c'è un problema di zoppia, come cammina, quindi a questo punto intervengo in maniera preventiva. Le nostre stalle italiane sono attrezzate? Sì, bene attrezzate? Assolutamente sì, che sono già tante bene attrezzate. C'è, come dire, ancora molto lavoro da fare, però mediamente possiamo dire che abbiamo già delle stalle, veramente alcune stalle che sono bene attrezzate, assolutamente sì. Lei ha fatto una bellissima presentazione, devo dire che la sua grafica, la sua presentazione ci ha appassionato, anche perché l'Italia, noi quando la giriamo in lungo e in largo, partendo dalle cantine e arrivando alle stalle, troviamo per fortuna nel mondo molta tecnologia italiana, anche nelle stalle. La vostra azienda? Sì, diciamo che la nostra azienda è un'azienda storica, ha più di 50 anni di vita e da sempre si è occupata del mondo zootecnico. Abbiamo sempre fatto tutto quello che è legato alla progettazione, realizzazione, messa a punto di strutture e tecnologie per l'allevamento degli animali. In particolare, in questo caso, ci rendiamo conto che il benessere degli animali diventa un elemento importante, non tanto come parola stratta, ma come proprio elemento legato alla produttività degli animali, perché un animale che non vive in condizione di benessere, assolutamente non è un animale che può esprimere al meglio le sue performance, sia produttive che riproduttive. Deve essere una buona struttura per poi arrivare ad un prodotto di qualità. E lei faceva proprio vedere una struttura che non è solo nel design, nel disegno, nella grafia che lei ci ha proposto oggi, ma realmente ci sono queste stalle che addirittura hanno un tetto che apre e chiude a secondo del clima. Sì, diciamo che il microclima è sicuramente uno degli elementi fondamentali per misurare il livello di benessere degli animali. Quindi possiamo aprire il tetto, chiudere? Certo, sappiamo che le vacche in particolare sono animali omeotermici, cioè sono animali che termoregolano il loro corpo e che la prima energia ingerita la utilizzano per termoregolarsi, quindi per mettersi in condizioni di benessere. Quindi solo quella in eccesso, solo l'energia in eccesso, sarà poi trasformata in latte o carne. Quindi il mettere questi animali in condizioni ideali significa esaltare appunto le loro capacità produttive. Per fare questo, siccome spesso non è possibile farlo in condizioni microclimatiche naturali, cosa facciamo? Facciamo delle strutture, che sono appunto chiamate del sole delle stelle, che hanno una porzione di tetto che si apre. Questa apertura del tetto consente di mettere condizioni microclimatiche ideali all'interno del ricovero zootecnico. Vediamo sempre da questa illustrazione che lei ci ha proposto diversi comparti. Provi a illustrarci un attimo. Sì, diciamo che sostanzialmente gli animali ci sono levati a stabilizzazione libera, cioè l'animale è libero veramente di muoversi e fare quello che, tra virgolette, gli è più congeniale, più gli piace. Per fare questo dividiamo la stalla in aree logistiche ben coordinate, che sono appunto l'area di foraggiamento, ciò dove passa il carro per distribuzione degli alimenti, la zona di alimentazione dove gli animali vanno ad assumere la loro relazione alimentare, per soddisfare il loro fabbisogno alimentare e tutto questo deve succedere senza assolutamente avere fenomeni di stress, perché lo stress è uno degli elementi che determinano la perdita produttiva. E poi c'è una zona di riposo, questa zona di riposo è una zona di riposo sull'ettiera, chiamata compost barn, c'è una superficie dove l'animale vive in condizioni di confort assoluto. Inoltre, volendo, si possono anche dotare le stalle di paddock esterni, cioè di superficie esterne, in cui l'animale, a seconda delle condizioni microclimatiche, decide se rimanere all'ombra o sfruttare la frescura serale e quindi affacciarsi e farsi una passeggiata all'esterno. Ecco, noi volevamo appunto darvi questo contributo, perché in Italia vediamo molte stalle che purtroppo chiudono, forse con una tecnologia come proposta oggi potrebbe venire voglia ancora di fare questo mestiere? Beh, diciamo che oggi tutti gli allevatori lo sanno, una parte importante del costo di produzione del latte è il costo alimentare e l'altra parte sono tutti i costi fissi. E' chiaro che solamente con certi livelli produttivi, la riduzione di costi sanitari, l'allungamento della vita degli animali e una stalla, chiamiamola, economicamente ed ambientalmente sostenibile si può dare successo e futuro a un allevatore. Beh, in questa giornata abbiamo toccato un po', avete toccato un po' tutti gli aspetti per una stalla ideale. Naturalmente noi quando parliamo di alimentazione animale parliamo anche di materia prima. Certo, in un mondo ideale dove c'è una stalla ideale le vacche dovrebbero mangiare in maniera ideale, eccola, mettiamola così. In realtà dopo noi dobbiamo fare i conti diciamo con le difficoltà di tutti i giorni, le difficoltà quotidiane delle persone e degli allevatori in questo caso che devono conciliare certamente la qualità dell'alimentazione da dare agli animali e con l'economicità. Quindi ci siamo scelti la strada di, diciamo così, di dividere la branca dell'alimentazione nelle vacche in due grossi settori. Una che è quella della nutrizione di base, vale a dire onorare i fabbisogni dell'animale, in questo caso i fabbisogni che non li decide l'azienda singola o l'allevatore, ma sono definiti in maniera scientifica. Una ricerca scientifica definisce il fabbisogno dell'animale in termini di integrazione vitaminico, minerale, amminoicidica, eccetera. Dopodiché è chiaro che questo potrebbe non bastare, in quanto gli animali sono sottoposti comunque a delle performance produttive e per fare ciò l'alimentazione di base alle volte deve essere supportata con quella, tra virgolette, chiamiamola funzionale o nutrizione clinica, quindi con l'apporto di ciò che manca nel momento del fabbisogno energetico, produttivo, eccetera. Quando noi ci preoccupiamo, quando con gli alimenti e gli animali diamo anche troppe medicine, troppi farmaci, ecco, c'è un controllo su questo? Beh, assolutamente, assolutamente sì. C'è un controllo sanitario, indubbiamente. Dal punto di vista degli alimenti, è chiaro che gli alimenti non hanno sostanze antibiotiche dentro, quindi sono alimenti del tutto presenti in natura o comunque ricostituiti come vitamine, macrominerali e microminerali, quindi presenti o nel terreno o aggiunti a supporto. Pertanto, sicuramente c'è un controllo dal punto di vista delle autorità. Quindi i veterinari conoscono molto bene questo ruolo che loro hanno giornalmente, il rapporto con l'allevatore, con i nutrienti che l'animale deve avere. Assolutamente. I nostri prodotti o delle aziende come le nostre che lavorano nell'alimentazione animale esibiscono un cartellino, un cartellino è, diciamo così, è fatto a rigor di legge e su quello viene controllato. Sostanzialmente c'è una responsabilità legale da parte delle aziende che producono di dover rispettare quello che si dichiara, diciamo, di vendere. Quindi tutto viene ritracciato? Assolutamente sì. Noi siamo in grado di poter rintracciare sul prodotto finito, partendo dall'otto chiaramente, i singoli componenti delle vitamine e dei minerali che sono inseriti nel prodotto. Lei si è ricordato una figura importante dell'allevamento, il veterinario. Sicuramente noi come partner farmaceutico abbiamo come cliente importante, come target delle nostre attività, visto che parliamo di farmaci etici, il veterinario che rappresenta e rappresenterà ancora, quindi questa è anche una parte di visione, la figura principale degli allevamenti da latte italiani. Il veterinario è una figura abbastanza dibattuta tra gli allevatori, tra gli addetti del settore. Noi stiamo lavorando con il veterinario per aumentare la credibilità e la forza che può avere la sua figura all'interno degli allevamenti. In questo momento in cui c'è da cambiare qualcosa, c'è da aumentare la percezione, la consapevolezza di un business day in Italia che può fare di più e deve comunicare di più. Per cui veterinario ma anche comunicatore, gestore dell'allevatore in una visione futuribile e futurista della professione. Lei ha fatto vedere proprio nel filmato il legame che il veterinario ha con l'allevatore. Sì, è fondamentale capire proprio che questo dualismo e questo binomio è fondamentale per la sopravvivenza dell'allevamento italiano. Riconoscere nell'allevatore e riconoscere nel veterinario le due figure partner di questo progetto di lavoro, di business, di qualità Italia è fondamentale. Per cui veterinari e allevatori insieme per costruire un futuro ideale, ecco, in un rapporto che dovrà necessariamente subire dei cambiamenti e delle modifiche a favore di una condivisione maggiore di quello che è l'obiettivo per entrambi. Beh, oggi abbiamo toccato tutti gli argomenti. Naturalmente dobbiamo parlare di sanità, dobbiamo cercare di capire se questi animali vivono in salute e tutto questo grazie ai veterinari riusciamo a conoscere di questi allevatori, questi allevamenti. Allora sì, come impresa che lavora nella salute animale sicuramente la stalla ideale include una parte molto importante che è la salute degli animali. La cosa molto importante per un'impresa come la nostra è dialogare direttamente con i veterinari che sono coloro che curano gli animali e che devono assolutamente collaborare strettamente con il proprio allevatore e tutti i tecnici che lavorano in azienda. Questo è il segreto perché qualsiasi tipo di protocollo possa avere successo. Il consulente è il veterinario dell'allevatore in qualche modo? Sì, il consulente principale per la sanità è esclusivamente il veterinario. E poi sappiamo che in un'azienda la salute degli animali comunque è un argomento complesso e quindi che nasce da un insieme di fattori. Quindi non ultima la nutrizione, la gestione manageriale, la gestione anche riproduttiva. Quindi più figure collaborano per la salute, quindi per un approccio olistico alla salute degli animali. La salute di un animale o degli animali la possiamo leggere all'aperto, in un pascolo o all'interno di un allevamento? O in entrambi i casi? In entrambi i casi. Ci sono molti studi che dimostrano come il sistema di allevamento varia notevolmente in base al tipo di animale che si alleva. E all'interno della stessa specie bovina le diverse razze hanno caratteristiche talmente peculiari da rendere più opportuno un sistema di allevamento rispetto a un altro, più il pascolo rispetto all'allevamento intensivo e viceversa. In entrambi i casi dobbiamo condividere all'aperto e al chiuso, cioè non è che il chiuso ha qualche problema? No, assolutamente. Il chiuso è un sistema che ha dato grandissimi risultati, che continua a darne perché garantisce la protezione dell'animale anche da condizioni climatiche sfavorevoli. Quindi l'irraggiamento solare, tutte le condizioni climatiche sfavorevoli. Quindi il chiuso con la possibilità di avere a disposizione spazi aperti è sicuramente un'ottimata. Ora vediamo la stalla ideale perché così con questa stalla ideale che ci è stata presentata oggi sembra la stalla del futuro straordinaria questa, si può aprire addirittura il tetto. Sì, 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 sicuramente. Per il benessere degli animali avere la possibilità di vedere in estate il sole e di notte le stelle probabilmente è un'opportunità unica che il futuro può riservare. Anche per gli animali come per le persone bisogna in qualche modo prevenire. Ecco, cosa stiamo facendo su questo segmento? Nell'area della salute, quindi degli animali, nel progetto della stalla ideale l'opportunità più importante è quella di lavorare in prevenzione. Lavorare in prevenzione vuol dire ridurre l'incidenza delle patologie tipiche, le tecnopatie tipiche della bovina da latte e questo significa ridurre anche l'indice di medicalizzazione degli animali con un impatto positivo non solo per l'animale e per l'allevatore ma per l'intera società. Questo significa ridurre l'utilizzo di molti antimicrobici di uso condiviso umano e veterinario e conservare più a lungo la loro efficacia e la loro efficienza nel contesto della medicina umana. Produrre latte eticamente sostenibile vuol dire avere una cura, a cura non soltanto la qualità del latte ma la salute degli animali e ridurre quindi l'utilizzo degli antimicrobici in questo senso vuol dire non solo tutelare l'animale e il produttore ma anche tutelare enormemente il consumatore. Bene, oggi lei è riuscito a mettere insieme un po' gli attori di questa filiera. Una filiera non facile da gestire, abbiamo visto degli interventi ma provarci fa bene anche perché quando ci si parla attorno a un tavolo diciamo fra detti ai lavori forse qualcuno invece oggi sono venute fuori un po' tutte le cose che non si dovrebbero neanche dire poi in televisione. Oggi lei ha parlato di comunicazione, indirezzare la comunicazione e voi avete anche un portale importante di riferimento. Ci parli di questo portale e l'idea di questa stala ideale? Allora, Ruminanzi è nata, è nacque proprio come un sito, un classico sito online. Poi abbiamo voluto fare il passo della rivista online, quindi l'iscrizione al tribunale e quindi quello che comporta anche tutte quelle che sono le tutele su quanto si esprime. Come tale abbiamo anche pensato di informare gli allevatori, informare i tecnici, informare le filiere del latte e della carne però abbiamo anche pensato che probabilmente in questo nuovo mondo di comunicare una rivista doveva avere anche il dovere di fare delle proposte muovendosi nell'ambio della sua community, community fatta di... Anche abbastanza forti, proposte anche scomode. Sì, proposte anche scomode, proprio per... Tanto noi il pay off di Ruminanzi è essere indipendenti e laici. Noi non facciamo lotte ideologiche o preferiamo schieramenti politici o sindacali. Noi siamo a tutela della filiera, filiera che è estremamente articolata anche perché il settore lattiero-gasiario, solo lui in Italia, fa 14,5 miliardi fatturato quindi per noi è importante. E siamo un po' preoccupati tutti di questo atteggiamento dei consumatori negativo nei confronti del latte e dei suoi derivati oppure dell'allevamento in generale. E quindi abbiamo pensato di fare, come sappiamo fare noi, possessori e titolari di partite IVA, una proposta. Una proposta concreta di fare probabilmente anche un passetto indietro noi come settore, ma soprattutto aprire un dialogo costruttivo sia con i consumatori ma soprattutto anche, non soprattutto, anche con i medici. Visto che molto spesso la televisione torna a dare forse dei messaggi troppo accattivanti a volte anche non veri. Noi siamo la televisione in qualche modo, ci preoccupiamo a volte di lanciare dei messaggi. Sì, ma questo è legittimo. È ovvio che, ma questo succede anche ai social, sul internet, la notizia negativa, catastrofica attrae sicuramente più interesse della notizia positiva, questo è evidente. Conoscere prima di comunicare forse potrebbe essere... Ma secondo me sì, perché sarebbe anche meglio, perché tutti siamo cittadini, non esistono i cittadini e noi. Noi tutti siamo cittadini, tutti abbiamo il carrello della spesa in mano e tutti abbiamo una sensibilità etica. E' questo, diciamo, che va su questo invastito un dialogo, cioè capire esattamente le ansie del consumatore, fugarle dove è possibile, qualora siano esse montate da un giornalismo non sereno, che non fa il suo mestiere. Ecco, la Stala Ideale vuole appunto fare anche questo. Sì, la Stala Ideale vuole fare questo. Noi abbiamo fatto, come tutto il pomeriggio di oggi, una proposta concreta e operativa. Della Stala Ideale abbiamo il progetto, la gestione, gli aspetti di nutrizione. E' una stalla chiave in mano, è una soluzione chiave in mano. Pensiamo che questa chiave in mano sia quello che il consumatore oggi si aspetta da noi. Però gli allevatori, qualcuno rumoreggiava anche sul fatto dell'equatazione del latte. Si parla di fare investimenti per cambiare e migliorarsi in azienda, ma il latte costa ancora troppo poco, qualcuno sostiene. No, ma chiaramente hanno ragione. Però l'allevatore è un imprenditore. E' un imprenditore si fia a imprendere, c'è un minimo di rischio. Oggi, con come si sta evolvendo il mercato, secondo noi, investire sulla struttura e sulla gestione in modo da produrre un latte etico che l'industria lattiera casearia possa apprezzare e costruire su esso dei claim commerciali, secondo me è chiaro che questo comporta da parte dell'allevatore degli investimenti. Ma guardi, noi abbiamo preso spunto da questo aspetto strutturale da Israele. Israele non ha optato per il compost barn, per gli aspetti etici. Israele ha optato per questo perché queste stale costano molto meno della stalla tradizionale, innanzitutto. La salute degli animali è nettamente migliore, quindi il costo di gestione è molto più basso. L'investimento iniziale, tra l'altro, è supportabile in qualche modo. Chiaro è che noi saremo capaci, se con l'industria lattiera o casearia, e oggi abbiamo tentato, e la presenza di Lactalis è stata significativa, aprire un dialogo con loro e cercare di fornire degli argomenti che permettono a loro di riconquistare quelle fette di mercato che stanno perdendo. L'industria accetta questo accordo, questo rapporto diretto con l'allevatore? L'industria, come è stato detto oggi, qui nel dibattito pomeridiano, è anch'essa smarrita in tutta questa situazione perché deve trovare degli argomenti nuovi per riconquistare i settori persi perché poi paradossalmente, quello che noi vediamo come ruminanzia, dove si sta perdendo quote a parte dei fenomeni estremi, ma soprattutto nei giovani, i giovani sono molto sensibili alle tematiche etiche e quindi si sta perdendo il futuro alla fine. I trasformatori industriali non erano molto d'accordo su questi diversi tipi di latte che potrebbero essere prodotti? Ma sai, io credo che... La mancanza dell'industria? Ma l'industria deve in qualche modo, probabilmente, sta per alcuni aspetti sottovalutando la portata del problema perché ovviamente non è istantaneo, non è che domani mattina nessuno berrà il latte o nessuno mangerà del formaggio. C'è una progressione. L'industria dell'atterogasi aria, da quello che possiamo noi avere come visuale, come visione generale probabilmente si aspetta anche delle proposte da parte nostra. E al consumatore cosa diciamo? Lei conosce molto bene i professionisti del latte. Il consumatore, gli possiamo dire che esiste ovviamente, come in tutte le cose, chi non è un buon allevatore e chi maltratta gli animali. Questo succede in tutte le cose. Però il fatto, che ne so, che il rumeno ti ha buttato la birra nel giardino non significa che tutti i rumeni buttano la birra nel giardino. Sono atteggiamenti fondamentalisti che non sono accettabili nella nostra cultura occidentale. Il consumatore, diciamo che deve stare tranquillo perché gli allevatori amano le proprie vacche, perché questa è la realtà. Come giustificazione l'allevatore ha dei sentimenti a volte brutali, non si esprime in questo aspetto, però basta frequentare i gruppi di discussione di Facebook o comunque dei social degli allevatori, i tre quarti delle informazioni sono legati all'affetto proprio che hanno dei confronti degli animali e della natura.